Buongiorno a tutti, un caloroso benvenuto. È veramente un piacere ospitare la terza conferenza mondiale sui paesaggi terrazzati nella nostra università in questa cornice suggestiva dell'orto botanico che spero avrete l'opportunità di visitare. È un tema affascinante quello dei paesaggi terrazzati, è abbastanza intuitivo che nascono dall'esigenza di coltivare in zone a elevata pendenza e questo spiega perché sono diffusi in tutto il mondo e fin dall'antichità. È però interessante vedere come poi queste forme sono state declinate in modo diverso diventando proprio in molti casi elementi caratteristici del paesaggio. Io ne ho una personale conoscenza, provengo da una zona pedemontana della vicina provincia di Vicenza dove il muretto a secco è stato per secoli un elemento distintivo, caratteristico, delle prime pendici, appunto delle prime montagne sulla pianura. Attualmente sono stati in stato di abbandono sostanzialmente sopraffatti dalla vegetazione, però è ancora possibile in alcuni casi scorgere queste scalinate di appezzamenti di terreno sovrapposti l'uno all'altro. E quello che mi richiamano è fatica, lavoro, tenacia, presenza costante. E questo veramente spiega anche perché questi elementi sono diventati per molti territori dei tratti identitari, degli elementi caratteristici, parte di un patrimonio di cultura e di tradizione. E quindi questo è un aspetto che travalica ovviamente anche la specifica esigenza di coltivazione che originariamente sicuramente ha prodotto queste forme. Credo che sia importante riflettere adesso sul cambiamento, cambiamento di ovviamente stile di vita e quindi di presenze, sul territorio che ha portato in moltissimi casi a un abbandono che si è già quasi completato, in altri casi che si sta manifestando, in altri casi invece ci sono ancora elementi di vitalità. Credo che questa occasione possa essere utile a riflettere su come gestire questa situazione, anche laddove queste forme non sono recuperabili perché vi è una transizione che comunque può essere molto critica dal punto di vista dei rischi strutturali, idrogeologici e so che mi perdonerete questa disgressione ma io sono un idrologo di formazione e quindi sono particolarmente interessato anche a questi aspetti della stabilità dei pendii e in questo contesto l'elemento di abbandono delle pendici una volta terrazzate è di particolare rilevanza. Io vi auguro che queste ulteriori sessioni plenarie oltre a quelle specifiche svolte anche in campo possano portare elementi di indirizzo e di chiarezza in questa materia. Vi auguro una buona giornata e un buon lavoro. Grazie